Il segreto, 13 marzo 2017. La rivelazione di Matthias. Una clamorosa rivelazione segna la puntata Il segreto del 13 marzo 2017 visto che Matthias Castaneda troverà il coraggio di dire tutta la verità sull'attentato di Munia, in cui è coinvolta Raffaela. Quali saranno le conseguenze di questa confessione a cuore aperto? Fe sembra onorata e lusingata della richiesta di Francisca di accompagnarla nella capitale, ma la mancata presenza di Mauricio le farà cambiare idea. Sol e Candela, intanto, cercano di fare in modo che Carmelo e Mencia si fidanzino. Prima parte. La confessione di Matthias. Matthias non resiste più a mantenere il suo orribile segreto e, dopo aver raccolto il coraggio a quattro mani, decide di confessare ad Alfonso la verità riguardo a Raffaela, della quale si è innamorato, e dall'esplosione avvenuta a Munia. La ragazza fa parte di un gruppo di anarchici, ed è coinvolta nell'attentato. Il marito di Emilia è sconvolto e, per quanto riguarda l'amore, consiglierà al ragazzo di fare chiarezza nei suoi sentimenti e di scrivere a Prado. Per lui sarebbe di gran lunga preferibile dimenticare Raffaela, mentre la notizia sull'esplosione, invece, gli crea non pochi problemi. Seconda parte. Viaggio nella capitale. Francisca ha intenzione di partire per Madrid, e chiede a Fede accompagnarla. La domestica accetterà Felice, anche perché in questo modo potrà trascorrere più tempo accanto a Mauricio. Quando, però, scoprirà che l'uomo resterà a Puente Viejo cambierà improvvisamente idea, ma non saprà come declinare l'invito della Montenegro per non turbare la sua suscettibilità. Ma come mai Francisca ha chiesto proprio a Fede accompagnarla? Ultima parte. Due cognate in piccione. A Puente Viejo è arrivata Mencia Ruiz, una giovane illustratrice ingaggiata da Severo come collaboratrice per pubblicizzare i prodotti dell'azienda. La ragazza è bella, disreta e gentile, tanto che Sole e Candela pensano subito che ella potrebbe essere la moglie giusta per Carmelo. Così, le due donne cominciano ad escogitare qualche trucco per fare in modo che i due si trovino da soli e riescano così ad avvicinarsi. Intanto Beatriz Mella riceve in dono dei cioccolatini da uno sconosciuto, mentre Ippolito e Donesimo creano confusione in negozio e le avventure degli abitanti di Puente Viejo diventano sempre più entusiasmanti, ed è per questo motivo che vi raccomandiamo di non perdere le prossime notizie che riguarderanno i protagonisti della telenovela trasmessa dalla rete Ammiralia Mediaset. Noi torneremo puntuali come sempre a fornirvi nuovi, appassionanti dettagli sulle prossime trame Il Segreto.